Dolce Noemi, sogna e torna. Forza Noemi, lottiamo con te. Sono tanti i messaggi dei concittadini della piccola di 4 anni ricoverata all'ospedale pediatrico Santo Bono dopo essere stata colpita per errore da un proiettile durante un agguato in piazza nazionale a Napoli. La piccola è stabile ma persistono le condizioni di criticità, si legge nel bollettino medico diramato dall'ospedale. Intanto i napoletani passano davanti al nosocomio per esprimere vicinanza alla bambina e alla sua famiglia. Qualcuno si ferma a portare un vasetto di fiori, qualcun altro a leggere i messaggi di affetto. Ieri sera una trentina di mamme appartenenti all'associazione Donne Forti Guerriere del Rione Sanità si sono riunite all'esterno del nosocomio partenopeo e hanno pregato con un cero in mano intonando preghiere per la piccola. E poche ore fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto all'ospedale per fare visita alla bambina. L'incontro è durato circa mezz'ora, dopodiché il capo dello Stato è ripartito senza rilasciare dichiarazioni.